Voglio chiederti la domanda di Febe. Le ha inviato diverse domande, però ho scelto questa per oggi e poi risponderemo anche alle altre. Riguardo allo sterminio che abbiamo studiato che nel Vecchio Testamento, quando Giosuè ha fatto la guerra per conquistare la terra promessa, ti ho comandato lo sterminio di diverse nazioni pagane che erano lì in Canaan. E tu l'hai spiegato perché è avvenuto? Hai detto che quelle nazioni non erano semplicemente pagane ma sacrificavano esseri umani, erano violenti, bevevano il sangue dei nemici, erano veramente come satanisti quasi? Per esempio i romani erano pagani, i romani, l'impero romano, però loro erano contrario a sacrificare bambini. Si chiama civiltà. E quindi non erano convertibili, diciamo, non che ha fatto un genocidio, li ha punito. È stata una punizione per sterminarli. Sì, non è un genocidio così razzismo o guerre coloniali come satanisti accusano Israele che per motivi coloniali ha fatto genocidio. Cosa vuoi che dicono i satanisti? Non vogliono confessare i loro genocidi, il loro colonialismo. Però bisogna avere... Cioè, non tanto, non solo ascoltare quello che la gente dice, ma bisogna vedere anche chi lo dice. Attenzione alle dottrine sataniche. Va bene? E Febbe chiede, in merito allo sterminio che veniva fatto dagli israeliti nei confronti dei popoli pagani che offrivano sacrifici umani, perché venivano coinvolti anche i bambini, ad esempio i bimbi moabiti? Perché a loro non veniva data la possibilità di salvarsi? E questa è la domanda. Sì, perché i bambini Dio non li ha salvati e cresciuti con un'educazione giusta? Beh, andiamo alla parola, va? Che qui l'opinione non conta niente. Ok. E comunque, il Signore già sa già quello che succederà dopo, prima che succede. Proverbi 20.11 dice Il fanciullo dà a conoscere quei suoi atti, se la sua condotta sarà pura e retta. Cioè, il Signore sa già anticipato, no? Anche prima che nasce, il Signore già sa che succederà. Amen. Proverbi 20.11. Sì. Guarda, c'è un passaggio che vorrei leggere, che forse ci aiuta a capire questo. Primo Re 14.1.17. Primo Re 14.1. In quel tempo Abija, figliolo di Geroboamo, si amalò. E Geroboamo disse a sua moglie, Levati ti prego, e travestiti, affinché non si conosca che tu sei moglie di Geroboamo, e vai a Ascilo. Ecco, qui vi è il profeta Ahija, il quale predisse di me che sarei stato re di questo popolo. E prendi con te dieci pani, delle focacce, un vaso di miele, e vai da lui. Egli ti dirà quello che avverrà di questo fanciullo. La moglie di Geroboamo fece così. Si levò, andò a Ascilo, e aggiunse a casa di Ahija. Ahija non poteva vedere, perché gli si era offuscata la vista per la vecchiezza. Or l'Eterno aveva detto ad Ahija, ecco, la moglie di Geroboamo sta per venire a consultarti, riguarda il suo figliolo che è ammalato. Tu parlale così e così. Quando entrerà, fingerà di essere un'altra. Come dunque Ahija udì il rumore dei piedi di lei che entrava per la porta, disse Entra pure, moglie di Geroboamo, perché fingi di essere un'altra? Io sono incaricato di dirti delle cose dure. Vai e dì a Geroboamo. Così parla l'Eterno l'Idio di Israele. Ti ho innalzato di mezzo al popolo, ti ho fatto principe del mio popolo Israele, e ho strappato il regno dalle mani della casa di Davide e l'ho dato a te. Ma tu non sei stato come il mio servo Davide, il quale osservò i miei comandamenti e mi seguì con tutto il suo cuore, non facendo se non ciò che è giusto agli occhi miei. E hai fatto peggio di tutti quelli che ti hanno preceduto. E sei andato a farti degli altri dei, e delle immagini fuse per provocarmi ad ira. E hai gettato me dietro alle tue spalle. Per questo ecco che io faccio scendere la sventura sulla casa di Geroboamo. E sterminerò dalla casa di Geroboamo fino all'ultimo uomo, tanto chi è schiavo come chi è libero in Israele. E spazzerò la casa di Geroboamo, come si spazza lo sterco finché sia tutto sparito. Quelli della casa di Geroboamo che morranno in città saranno divorati dai cani, e quelli che morranno per i campi li divoreranno gli uccelli del cielo, poiché l'Eterno ha parlato. Quanto a te, levati, vattene a casa tua, e non appena avrai messo piede in città, il tuo bambino morrà. E tutto Israele lo piangerà e gli darà sepoltura. Egli è il solo della casa di Geroboamo che sarà messo in un sepolcro, perché è il solo nella casa di Geroboamo in cui si sia trovato qualcosa di buono rispetto all'Eterno, all'iddio di Israele. L'Eterno stabilirà sopra Israele un re che in quel giorno sterminerà la casa di Geroboamo. E che dico? Non è forse quello che già succede? E l'Eterno colpirà Israele che sarà come una canna agitata nell'acqua. Sradicherà Israele da questa buona terra che aveva dato ai loro padri, e li disperderà oltre il fiume, perché si sono fatti degli idoli di Astarte, provocando a Dira l'Eterno. E abbandonerà Israele a cagion dei peccati che Geroboamo ha commessi e fatti commettere a Israele. La moglie di Geroboamo si levò, partì e giunse a Tirza, e come ella metteva il piede sulla soglia di casa, il fanciullo morì. Primo re 14 da 1 a 17. Bene, qui vediamo il verso 13. Vuoi leggere di nuovo? E tutto Israele lo piangerà e gli darà sepoltura al bambino. Egli è il solo della casa di Geroboamo che sarà messo in un sepolcro, perché è il solo nella casa di Geroboamo in cui si sia trovato qualcosa di buono rispetto all'Eterno, all'Iddio di Israele. Bene, quindi qui questo bambino qua, mentre ancora bambino, prima ancora che potesse essere responsabile, maggiorenne, eccetera, Dio dice il solo, nella casa di Geroboamo, una casa malvagia, in cui si sia trovato qualcosa di buono. Quindi c'è un sacco di... Dice molto questa scrittura. Ma appunto, perché Dio lo fa morire se c'è qualcosa di buono in lui, in questo bambino? Guarda, vai a Isaia, guarda. Ok. Isaia? 57 a 1. Il giusto muore e nessuno vi bada. Gli uomini buoni sono tolti di mezzo e nessuno considera che il giusto è tolto di mezzo per sottrarlo ai mali che sopraggiungono. Isaia 57, verso 1. Capito? Il giusto muore per il motivo di sottrarlo ai mali che vengono. Siamo in un mondo del diavolo. I mali possono essere grandissimi. Tribolazione, sofferenze, torture, non si sa. E allora il Signore toglie il giusto per sottrarlo ai mali che vengono. Guarda, secondo Re 22, 20. Secondo Re 22? 20. 20. Ecco, io ti riunirò con i tuoi padri e te ne andrai in pace nella tua tomba. I tuoi occhi non vedranno tutte le sciagure che io farò piombare su questo luogo. Va bene. Secondo Re 22, 20. Ecco, anche Secondo Cronache 34, 28. Quindi qui abbiamo letto Ti riunirò con i tuoi padri e i tuoi occhi non vedranno le sciagure che vengono. Quindi il Signore li prende così che li risparmia da un male peggiore? A volte alla morte è un premio. Secondo Cronache 34, 28. Ecco, io ti riunirò con i tuoi padri e te ne andrai in pace nella tua tomba. I tuoi occhi non vedranno tutte le sciagure che io farò piombare su questo luogo e sopra i suoi abitanti. Secondo Cronache 34, 28. Va bene. Il Signore, cioè le vie del Signore sono in alto. Le nostre vie sono in basso. Allora, dobbiamo giudicare le cose dal punto di vista della parola, della scrittura. In questo mondo il metro di misura è se hai i soldi sei benedetto, se no no. Se sei ammalato o sei maledetto o se invece sei sano sei benedetto. Invece guarda Giobbe. È stato più benedetto che c'era al mondo eppure il Signore ha permesso che il diavolo gli desse malattie. A volte un parente muore, un familiare muore di cancro, eccetera. Dice, oh Signore, perché l'hai permesso? Uno può essere vecchio e dice, beh, era il tempo che se l'andasse. Però qui vediamo nella casa di Giroboamo che il bambino muore giovanissimo. Però stavano arrivando dalle sciagure così terribili che tutta la casa di Giroboamo sarebbe stata distrutta in un modo veramente orribile. E allora è più benedetto morire che vivere. Insomma, il Signore è in alto. Il Signore è il Dio della vita e della morte. Il Signore vede e dice, guarda, sta venendo questo e questo. Per sottrarlo. È morto Billy Graham, grande evangelista. È morto Oral Roberts. Sono morti vecchi, alla vecchiaia. Sì, sì, sì. Però altri sono molti più giovani. E quando questi morivano, beh, diciamo, Billy Graham è morto vecchio perché il Signore l'ha fatto nascere in un certo tempo. Poteva nascere vent'anni dopo e sarebbe stato ancora vivo. Il Signore invece no. sapeva che adesso siamo nel tempo della fine e secondo me viene l'anticristo presto. E quindi Billy Graham ha fatto il suo lavoro per bene, eccezionale. Ora Roberts lo stesso e tanti altri. E il Signore li ha portati in cielo. E allora non chiedete mai a Dio perché hai fatto morire questo o quello. A volte capita che è semplicemente volontà del diavolo quando uno muore, no? Come le guerre, muoiono bambini, muoiono mariti, muoiono civili. E non è volontà di Dio, logico che no. Ma anche se Dio non era a sua volontà che loro morissero, se Dio lo permette, vuol dire che tutto è sotto controllo. Ma ha lasciato una moglie, una vedova, i figli. Adesso si parla molto di Navalny che è morto nel carcere in Russia. Secondo me, a mia opinione, è stata la CIA che l'ha ucciso. È stata la CIA che ha pagato qualcuno che fa sempre così come la situazione di Kennedy. Uno ha sparato Kennedy, un altro spara l'assassino e poi lui muore in carcere. Insomma, non sai mai chi è che le fa morire questi qua. Apparentemente è stato Putin. È un'apparenza. Secondo me no, perché il frutto di questo assassino di Navalny è tutto a favore dell'America, tutto a favore dell'Ucraina, tutto contro Putin. Perché Putin è andato a ammazzarlo, scusa? Che il Navalny è conosciuto fuori dalla Russia e la Russia non lo conosce nessuno. In Russia, hanno intervistato, sembra che quasi nessuno lo conosce questo qua. cioè non dava fastidio a Putin in Russia. Questo per dare un esempio, no? Che non dobbiamo mai andare in base alle apparenze. Ecco, allora questo bambino dice al verso 13 dice è il solo della casa di Gerovamo che sarà messo in un sepolcro perché è il solo in cui si è stato trovato qualcosa di buono. Torniamo alla domanda della sorella. Dice perché il Signore ha permesso queste stragi, questi genocidi? Perché l'ha permesso? Perché, in stesso modo, di Sodoma e Gomorra. Ma anche in Sodoma e Gomorra i bambini non potevano essere salvati? Beh, apparentemente in Sodoma e Gomorra c'erano meno tutta la città c'erano meno di sette persone buone. Ah, compreso i bambini? Compreso i bambini. Non c'erano alcuni bambini innocenti? La Bibbia c'è dal numero del massimo di buoni che ci potevano essere e magari non c'erano neanche. perché Abramo ha pregato se ci sono dieci giusti a Sodoma tu lo risparmierai, no? E Dio dice se trovi dieci giusti la risparmio. E Abramo non ha chiesto più niente se ci sono almeno cinque giusti. Perché non l'ha chiesto? Non lo so. Perché Dio se n'è andato. Perché Dio ha visto che Abramo tirava la corda. Cioè, se sono cinquanta, quarantacinque, ma forse quaranta, ma forse trenta, ma forse venti, ma forse dieci. Dio dice ok, non tirare troppo la corda. Quindi più, oltre dieci non l'ha fatta andare e se n'è andato. Quindi c'erano, c'era Lot, le due figlie e sono tre. Quindi sono rimaste sette. La moglie di Lot non non conta. Perché quella lì è il suo cuore si è voltato stato di sale. Ma vuol dire che in tutta Sodoma e Gomorra non ci sono stati una decina, alcune decine di bambini innocenti, puri, bebè, piccoli, che erano innocenti. Dio ha detto se trovo dieci giusti la risparmierò. E compreso i bambini perché Dio sapeva anche i bambini se sarebbero stati giusti. Wow. Bene, infatti, guarda, vai a Geremia capitolo 1. Ok. Geremia 1. Ci sei? Quasi. Sì. 4 e 5. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Geremia 1. 4 e 5. Quindi qua Dio sta dicendo a Geremia prima che tu fossi stato formato nel sene di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che fosse nato, secondo Timoteo 2. Angela. Secondo Timoteo, aspetta. 19. Tuttavia, il solido fondamento di Dio rimane fermo portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono Suoi e si ritraga dall'iniquità chiunque pronunzia il nome del Signore. Secondo Timoteo 2.19. Va bene. Allora, cosa dice? Il Signore conosce quelli che sono Suoi. Quindi, se il genocidio di Canaan, oggi si chiama Israele o secondo gli islamici Palestina, quelli lì non erano genocidi. Cos'erano? perché la distruzione di Sodoma, di Pompei, il diluvio universale sono stati genocidi? E scusa, secondo i satanisti sì, perché Dio ha ucciso i bambini e invece no, agli occhi di Dio quello era un una punizione. Cioè, Dio, Dio ha il creatore, ha il diritto di punire sulla sua creazione o no. E caspita! E come no? Cioè, un pecoraio non ha il diritto di mandare al macello tot pecore e di tenersi altre? Va bene. E allora anche Dio che ha creato gli uomini ha il diritto quando c'è una pera marcia c'era una città tutta marcita. Sodoma. Prima che marcisse tutto il mondo Dio l'ha eliminata perché vedi il sesso pervertito è una cosa molto zuccherata molto piacevole nella carne e la pornografia personificata faceva uno sesso con gli animali sesso tra genitori e figli e non c'era matrimonio ognuno faceva quello che gli pareva e siccome la carne queste cose gli piace molto tutti i fratelli che sono cascati nella pornografia per qualche settimana ci sono cascato anch'io tanto tempo fa il Signore mi ha tratto perché mi dava fastidio nell'evangelizzazione e ha detto devo smettere mi toglie i pensieri e ho sgridato il diavolo e via tanti anni fa e chi è cascato nella pornografia sa come è potente il diavolo nella pornografia donne nude uomini anche le sorelle ci scrivono c'è uno spirito che viene e fa sesso con me tutte le notti ed è una cosa molto piacevole dice capito il peccato è piacevole perché così tanti mariti anche qualche mogliettina magari santimoniosa all'esterno fanno adulterio perché è piacevole nella carne quindi Sodoma era piacevole nella carne persino le figlie di Lot ebbero sesso Lot il santo uomo le figlie di Lot ebbero sesso con lui ebbero due figli Ammon e Moab la moderna Giordania e sono discendenti di Lot attraverso le figlie che dissero una figlia disse all'altra porta qui uno fiasco di chianti che facciamo imborracciare facciamo ubriacare nostro papà e dopo ci facciamo mettere incinta una dopo l'altra fecero così Lot quando si ubriacava arrivavano le figlie e sono rimasti incinta di questi qua quindi dove hanno imparato queste donne a Sodoma venivano guarda caso venivano da Sodoma avevi una domanda quindi pensi che se i bambini di Sodoma e Gomorra sarebbero cresciuti credi che avrebbero sparso questo tipo di sesso pervertito nel mondo ovunque loro si trovavano sicuramente per lo stesso motivo Dio distrusse allo stesso modo Pompei fu attraverso il Vesuvio di Napoli Pompei così era verso 70 80 non so circa 70 dopo Cristo Pompei sono andato a Pompei e ho visto anche le raffigurazioni artistiche dei vasi che avevano ritrovato uomini che fanno sesso con gli animali donne uomini guarda c'è da sporcarsi la mente solamente a dire quello che facevano esattamente una una Sodoma italiana e Dio cosa fece fece quello che farà con l'Europa con l'America Babilonia la prostituta li distruggerà quindi pervertiti siete avvisati va bene dice ma la Bibbia non la Bibbia dice Romani capitolo 1 chiarissimo ti leggo questa scrittura di Salmi 58 verso 3 dice questi empi si sono corrotti fin dal grembo materno questi bugiardi si sono sviati fin dalla nascita Salmi 58 verso 3 quindi anche i bambini che sono stati educati al stile Sodoma e Gomorra al stile paesi di Canaan sarebbero cresciuti in quel mondo empio e lo vorrebbero contaminato come hanno contaminato gli ebrei appena è morto Giosuè sono andati ad adorare gli idoli quando non c'era più Giosuè con il bastone da spaccargli la testa dura si sono messi ad adorare gli idoli subito la generazione dopo di Giosuè leggi il libro dei giudici che comincia la morte di Giosuè appena Giosuè è morta la generazione di Giosuè è morta la corsa all'idolo come oggi corsa ai dollari agli euro alla pornografia corsa all'internet corsa al telefonino corsa alla marijuana corsa all'egoismo trattare i genitori come pezzi da piedi i genitori tu devi pagarmi finanziarmi io la mattina quando faccio colazione mi piace la marijuana e poi vado al parco sotto un albero col mio fidanzato o fidanzato e questo è il mondo moderno Dio ce liberi bene secondo Timoteo 2.19 dice il Signore conosce quelli che sono suoi va bene se fratelli non hanno domande tu non hai domande no ho capito non ho mai visto queste scritture collegate a questa situazione ma è una buona domanda grazie Febe Dio ti benedica lo Spirito Santo ci guida a collegare le scritture gloria a Dio vuoi un'altra scrittura Matteo 10 sì qui c'è un'altra guarda Matteo 10 dove 14 a 16 devi andare ascoltate fratelli e se alcuno non vi riceve ne ascolta le vostre parole uscendo da quella casa o da quella città scuotete la polvere dai vostri piedi in verità io vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra nel giorno del giudizio sarà trattato con meno rigore di quella città ecco io vi mando come pecore in mezzo ai lupi siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe Matteo 10 da 14 a 16 allora cos'è che salta all'occhio qui che Sodoma e Gomorra tu penserai uè se c'è un popolo che andrà nel lago di fuoco sicuramente Sodoma e Gomorra sicuramente se il Signore li ha bruciati tutti quanti invece no Gesù viene qui come abbiamo letto dice Sodoma e Gomorra sarà trattata con meno rigore di voi va bene di quelli che te entri in città predichi il Vangelo vai in una casa predichi il Vangelo e non vi ricevano e non vi ricevano e non ascoltano però sto parlando ai discepoli non sto parlando del testimone di Geova sto parlando a discepoli sì Matteo 10 è un capitolo dove Gesù invia i discepoli ad evangelizzare di città in città se vuoi che Dio tenga fede le sue promesse e punire quelli che non ti ricevono e lo farà devi essere un discepolo devi predicare non il Vangelo del testimone di Geova o di qualche setta ma devi predicare il Vangelo dei dodici apostoli il Vangelo dell'amore va bene della salvezza presentati in un modo appetibile ispirante non mummificante come certe religioni mummia come fanno queste religioni sarcofagi ad andare a evangelizzare bussi chi è? un sarcofago vuoi anche tu essere un sarcofago religioso come me per l'amore di Dio si salvi chi può non aprire ora se la nostra religione è la religione dei sarcofagi gli scaldapanca che ti presenti alla porta invece della croce di Gesù porti una panca in spalla vieni c'è una panca libera nella mia chiesa morta e la gente ti respinge ma allora la respingerei anche io ma se va un vero discepolo speriamo di essere così che va in amore e presenta il vangelo in amore e si presenta con un viso di gioia allegro di pace una faccia di amicizia e nel nome di Gesù e ti respingono saranno trattati peggio di Sodoma e Gomorra oh frate Giuseppe per cortesia non essere non dare vangelo duro è Gesù che lo sta dando non sono io cercate di distinguere quando è il cretino fratello Giuseppe e quando è quando sono le mie baselette magari disastrate le mie battute che si salve chi può che ci sono fratelli ascolti le mie battute e vorrebbero darla a me una battuta basta che mi tolgo di mezzo io accendo la radio per ascoltare il vangelo mica le tue le tue battute della Befana scusate fratelli in realtà è al contrario tanti fratelli scrivono che li fai ridere tanto e gli piace il tuo sarcasmo è quello che dicono loro state attenti che vendiamo biglietti qui sai nel ciclo questo con più ridi con più si alza prezzola vabbè fratelli grazie per la vostra misericordia comunque qualunque qualunque barzelletta che non è indovinata non prendetevo con lo spirito santo purtroppo la responsabilità è mia quelli di Sodoma e Gomorra saranno trattati con meno rigore che significa significa che davanti al trono bianco apocalisse cos'è 20 e 11 ci saranno quelli di Sodoma e Gomorra ci saranno e ci saranno quelli trattati con più rigore che dove vanno Angela con più rigore forza Angela non lo so lago di fuoco ho detto il trono bianco ok apocalisse trono bianco più rigore lago di fuoco meno rigore Angelina nuova terra nuova terra perfetto e meno 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 rigore il nuovo Gerusalemme no ma quelli è un altro quelli non vanno al trono bianco non vanno al trono bianco vanno al trono dell'amore si chiama così lo chiamo così io che all'inizio di apocalisse 20 e vidi dei troni e quelli che vi si si è dettero a loro fu dato il potere di giudicare alleluia vidi i risorci che non avevano adorato un macchio della bestia e neanche la bestiaccia e neanche il paciamama e neanche le false religioni e si si è dettero per giudicare l'apocalisse 20 verso 4 non è bello? è bello certo allora vado avanti io o vai avanti te? no vado io così che posso cambiare soggetto altrimenti rimaniamo qui si è già stancata no no però ci sono ancora cose interessanti che voglio portare fuori oggi in questo programma fratelli scrivete mandate email